Stamattina la partenza è dalla Valle Roia e andremo a salire alla Rocca dell'Avisso per il suo sperimento su ovest. Abbiamo lasciato la macchina qua in territorio francese, adesso gireremo questo spuntone e da lì inizieremo a salire. Abbiamo raggiunto i laghi di Perafica e da qua davanti a noi c'è il versante di salita, il versante sud ovest. Grazie a tutti. 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 il forte giauro da qua scenderemo giù questo sentiero che taglia per prati arriva la macchina abbiamo salito la cresta quella che dovrebbe essere la cresta sud ovest del di rocca dell'abisso adesso cercheremo bene dalle relazioni di capire difficoltà direi tra f più e p di meno